Buongiorno, in questo video parleremo del sistema di valutazione della qualità all'interno dell'Università di Verona e approfondiremo poi il ruolo dello studente nel contesto dell'assicurazione della qualità. Parleremo quindi di che cos'è l'assicurazione della qualità, a cosa serve e come può essere portata avanti da tutta quanta la popolazione universitaria, quindi dai docenti, dagli studenti, dal personale tecnico-amministrativo. Ovviamente il compito è quello di formare tutti quanti affinché ci sia sempre più la percezione di che cosa è importante fare nell'ambito dell'assicurazione della qualità e dei motivi che ci spingono a adottarla per migliorare sempre le attività che vengono svolte all'interno dell'Università. E in particolare per gli studenti è importante conoscere l'attività che viene svolta, gli strumenti che vengono adottati e qual è il ruolo che ciascuno di loro ha, in modo che la loro partecipazione sia veramente attiva, non solo nello studio, nella didattica, ma anche nel contesto dell'assicurazione della qualità. In questo video useremo una serie di acronimi che diventano pane comune per quelli che agiscono in ambito di assicurazione della qualità, ma che a volte potrebbero non essere noti alla maggior parte di chi vive poi l'Università. E quindi sentirete termini come ANVUR, piuttosto che AVA, piuttosto che Presidio della Qualità, piuttosto che Nucleo di Valutazione, o CDA, o SMA, o SUA, CDS. Sono termini che impareremo ad utilizzare e che devono corrispondere poi a delle azioni e a dei compiti che gli studenti hanno come attività, sia che facciano parte delle rappresentanze studentesche, sia che si trovino semplicemente a studiare e a fare attività di ricerca assieme ai docenti nel contesto dell'Università. Quindi partiamo dall'inizio. Che cosa è l'assicurazione della qualità? Dunque in ambito universitario l'assicurazione della qualità potremmo dire che comincia a muovere i suoi primi passi nel 2003, quando i ministri europei all'istruzione chiedono all'ENCA di sviluppare un insieme di standard di linee guida sull'assicurazione della qualità, che permetta alle università di avere una visione comune su quello che potrebbe essere un modo per garantire la qualità all'interno della didattica, della ricerca, della terza missione delle università a livello europeo. E quindi nel 2005 escono le prime linee guida, quelle che sono note come Standard and Guidelines for Quality Assurance in the Higher European Education Area. Queste linee guida descrivono la base di che cosa vuol dire assicurazione della qualità e quindi nell'ambito di ogni Ateneo accomunano quelle che sono le indicazioni principali per poter gestire il ciclo di assicurazione della qualità. In Italia nel 2012, proprio con il compito di portare a compimento queste linee guida anche negli Ateneo italiani, nasce ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. ANVUR ha il compito di definire le linee guida italiane a partire dalle indicazioni europee e pertanto sviluppa quello che è il sistema AVA, Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, con il quale indica quelle che sono le azioni principali che ogni Ateneo dovrebbe portare avanti. Quindi la capacità di autovalutarsi, di vedere al proprio interno quelle che possono essere le aree di miglioramento, gli strumenti e gli enti preposti, gli attori preposti a fare la valutazione come componenti esterni rispetto all'università e l'accreditamento, cioè la possibilità che gli Atenei abbiano in qualche modo un bollino fornito da ANVUR stessa che dice qui c'è un sistema di assicurazione della qualità che funziona. Ecco, queste linee AVA si rifanno ovviamente alle linee guida europee e quindi sono state recepite nel 2012 da ANVUR e prevedono che gli Atenei debbano adottare delle politiche della qualità, in particolare per l'offerta formativa, che definiscano come gestire i programmi dei corsi di studio, monitorare il funzionamento dei corsi di studi e revisionarli quando si riscontra la necessità o l'opportunità di implementare dei miglioramenti. E questo deve essere fatto tenendo conto delle risorse e delle disponibilità che sono presenti all'interno dell'Ateneo specificatamente per ogni corso di studio e quindi parliamo del corpo docente che deve essere adeguato per sviluppare gli obiettivi formativi del corso di studio in questione, delle risorse materiali, laboratori, strumentazioni che sono utili per poter raggiungere gli obiettivi formativi del corso di studio. Bisogna poi tener conto di quelli che sono gli esiti che ci si aspetta da parte dei studenti, quindi noi docenti spieghiamo, insegniamo, facciamo formazione affinché gli studenti acquisiscano conoscenze e competenze e quindi è necessario definire e tenere conto anche di questi esiti e di quali sono le modalità con cui vengono verificati. In parole povere diremmo gli esami ma sotto la parola esame c'è qualcosa di più. E ovviamente è necessario che un corso di studi tenga conto non solo dell'aspetto culturale e scientifico estremamente importante ma anche di quelli che poi possono essere gli sbocchi occupazionali per i laureati. E' necessario che tutte queste analisi vengano documentate in modo sistematico, diventino la storia del corso di studio di modo che chiunque si trovi a rivestire delle posizioni organizzative di gestione del corso di studi posso sapere che cosa è successo in passato, quali sono state le criticità affrontate, quelle che sono le aspettative e le possibili azioni di miglioramento. Questo vale sia per i docenti che per il personale amministrativo e tecnico che per gli studenti che sono parte all'interno di questo processo attiva. Quindi le università hanno la responsabilità poi di pubblicare, di rendere consapevoli tutto il popolo studentesco, docente del personale tecnico amministrativo di quelle che sono le attività poste in atto in ambito di assicurazione della qualità e quindi devono pubblicare e di informare rispetto ai corsi di studio che sono attivati e ai corrispondenti titoli che vengono rilasciati, alle metodologie di insegnamento e di apprendimento che sono portate avanti all'interno di quei corsi di studio, alle procedure di verifica dell'apprendimento che vengono utilizzate e ai risultati che ci si aspetta da parte dei laureati. Tutte queste informazioni devono ovviamente includere anche le opinioni dei laureati, la loro esperienza all'interno del percorso universitario e quelle degli studenti durante il percorso che stanno compiendo. Il modello AVA quindi, dando attuazione a quello che è stato previsto dalla legge 240 del 2010, ha previsto in particolare di introdurre, dicevamo prima, tre fasi importanti nell'assicurazione della qualità della didattica. L'accreditamento, la valutazione e l'autovalutazione. E quindi l'accreditamento è quel processo che permette agli Atenei di ricevere, dicevamo prima, un bollino, una certificazione periodica che garantisce la qualità che viene implementata all'interno di quell'Ateneo. Questo avviene dopo una fase di valutazione dell'efficacia di questa assicurazione della qualità, che ha alcuni attori interni, come ad esempio il nucleo di valutazione che monitora la situazione dell'Ateneo costantemente, e alcuni attori anche più esterni, come il Ministero e lo stesso AMBUR, che fanno delle visite periodiche e valutano periodicamente l'operato degli Ateneo. Per farsi trovare pronti, ma soprattutto per dare importanza a tutte le attività di assicurazione della qualità, è fondamentale avere anche una fase di autovalutazione, che sia interna agli attori stessi che vivono in Ateneo, docenti, studenti, collegi didattici, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, che siano in grado quindi di autovalutarsi rispetto a quelli che sono degli obiettivi che vengono definiti nei documenti strategici e che poi devono essere analizzati periodicamente per vederne qual è il livello di raggiungimento. Se parliamo strettamente di didattica, ma l'assicurazione della qualità si applica ovviamente anche agli altri ambiti su cui un'università agisce, e quindi la ricerca e la terza missione, nella pratica ci accorgiamo che gli Atenei devono progettare i corsi di studio seguendo sostanzialmente tre aspetti principali. L'analisi della domanda di formazione occupazionale, quando ci si pone a far nascere un nuovo corso di studio, ci si chiede perché, perché questo corso di studio, qual è il suo carattere scientifico, culturale e qual è il contesto occupazionale in cui i laureati poi dovranno agire. Da lì si vanno a definire gli obiettivi formativi, cioè quelle competenze e quelle conoscenze che i docenti devono trasmettere e gli studenti devono acquisire, che vengono descritte secondo uno standard che prende il nome di Descrittori di Dublino, in modo che sia uniformato tra tutti quanti i vari corsi di studio, tra tutte quante le varie università, cosicché lo studente, la famiglia interessata all'iscrizione per un corso di studio potrà confrontare e vedere quali competenze e quali conoscenze ogni corso di studio è in grado di offrire. E quindi bisogna poi definire qual è il metodo con cui si va a verificare se queste conoscenze e queste competenze sono state effettivamente acquisite dagli studenti. Nella pratica poi i corsi di studio devono monitorare il proprio andamento in termini di come è andata la carriera dello studente, si è laureato nei tempi, ha avuto una media degli esami soddisfacente, ci sono stati dei ritardi nella prosecuzione degli studi, ci sono stati degli abbandoni, gli studenti una volta laureati vanno a fare il mestiere per cui hanno studiato o fanno dell'altro, quindi monitorare la carriera e anche le fasi successive alla laurea e serve ovviamente definire dei processi di verifica che alla luce delle opinioni e delle segnalazioni che arrivano anche dagli studenti, oltre che dai docenti, oltre che dal mondo delle parti interessate, quindi le industrie, le società scientifiche, i servizi, il mondo dei servizi e delle professioni, che forniscono la loro visione tramite il vissuto con i nostri laureati per capire se ci sono delle aree di miglioramento, per capire se c'è qualcosa che può essere reso più agevole per gli studenti durante la loro carriera, reso più aderente a quegli obiettivi formativi che ci si era posti, reso più in linea con quelle che sono anche le aspettative delle parti interessanti. Ecco allora che l'assicurazione della qualità si preoccupa di formare e in qualche modo monitorare rispetto a tutte queste attività che vi ho appena raccontato. Quindi le attività principali sono quelle legate alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche, includendo forme di verifica interna ed esterna con l'obiettivo di migliorare la qualità che ogni Ateneo deve perseguire nella sua azione di formazione di ricerca. Nel contesto dell'Università di Verona ovviamente anche noi abbiamo implementato un modello di assicurazione della qualità che prevede di agire su tutti i servizi offerti dall'Ateneo, quindi sia sulla didattica e i servizi di studenti che sulla ricerca che sulla terza missione, in modo da garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità perseguendo un processo di miglioramento continuo che va alla ricerca delle eventuali criticità e trova soluzioni per poterle superare. Il modello dell'assicurazione della qualità del nostro Ateneo si basa su un ciclo che vede come punto di partenza la programmazione e la definizione di politiche, di obiettivi, di azioni da perseguire, a cui seguono le attività da parte di tutti quanti gli organi che operano e vivono l'Università, studenti, docenti, personale tecnico-imministrativo, attività che poi vengono monitorate e valutate per poter cogliere la possibilità di migliorare e quindi dare nuovo slancio al ciclo di programmazione e definizione delle politiche. Questo avviene in tutti gli ambiti, la didattica, la ricerca, la terza missione e a tutti i livelli, quindi a livello centrale di Ateneo dove stanno gli organi collegiali di indirizzo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, i delegati del rettore, il rettore stesso, a livello di dipartimenti e scuole dove ci sono opportuni organi collegiali limitati al dipartimento della scuola che definiscono le proprie politiche, la propria programmazione e a livello di corso di studi, di collegio didattico dove si va ad entrare proprio nel merito di quelle che sono poi le attività formative per ogni singolo corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale al ciclo unico offerto dal nostro Ateneo. È importante ricordare che qualità non significa va tutto bene, non c'è nessun problema. Qualità significa essere in grado di identificare i problemi, se ce ne sono, analizzarne le cause, definire delle soluzioni e andare a vedere nel tempo se quelle soluzioni hanno portato effettivamente alla risoluzione del problema. Se così è bene, se così non dovesse essere, il ciclo riparte. Quali sono le cause, quali possono essere delle azioni da mettere in campo? Vediamo se hanno avuto effetto. E allora gli studenti in questo contesto cosa possono fare? Che tipo di responsabilità e anche di diritti hanno in un contesto di un'università che viene gestita secondo un sistema di assicurazione della qualità? Ecco che quindi gli studenti hanno un ruolo molto importante in particolare se sono dei rappresentanti degli studenti, ma se invece non siete rappresentanti comunque avete un ruolo importante nel contesto di assicurazione della qualità. Il primo compito necessario per gli studenti è informarsi, informarsi e formarsi, sapere quali sono i vostri diritti e quali sono i vostri doveri, a partire dal diritto sacrosanto che avete di eleggere i vostri rappresentanti. E i rappresentanti come tali vi rappresentano, non rappresentano loro stessi o le loro idee, ma devono rappresentare quello che la base che vi ha eletti ritiene che sia importante per il percorso di studio. Ecco che quindi avere uno stretto legame tra rappresentanti e base studentesca è fondamentale, altrimenti il rappresentante che si siede in collegio didattico cosa potrà dire? Solo quello che gli viene in mente in quel momento lì o che ha pensato lui o lei, ma non è rappresentare quello. Quindi un rappresentante dei studenti deve sapere e saper spiegare a chi? Ai propri colleghi studenti. Deve sapere cosa ci si aspetta da lui o da lei, quali sono le azioni che deve compiere nell'organo all'interno del quale è stato eletto e deve definire come interagire con i propri colleghi di modo da poter raccogliere le loro istanze, farsene portavoce nei collegi e negli organi in cui questo rappresentante siede e portare poi feedback delle azioni che sono state discusse. E noi abbiamo rappresentanti sia negli organi centrali, consiglio di amministrazione, senato accademico, sia a livello periferico dentro i dipartimenti che dentro i consigli dei vari collegi didattici. E in più voi studenti avete un organo tutto vostro che è il consiglio degli studenti, che si preoccupa ovviamente di trattare a 360 gradi tutto quello che diventa fondamentale nella vostra vita di studenti dentro all'Ateneo. Guardate che non è scontato avere un consiglio degli studenti, esistono Atenei che non ce l'hanno. Quindi sfruttate quel consiglio, sfruttate i vostri rappresentanti e voi rappresentanti sappiate che dovete raccogliere quello che i studenti, i vostri colleghi dicono e vi chiedono di portare l'attenzione poi degli organi in cui voi sedete. Entrando un po' più nel dettaglio. Qual è il ruolo degli studenti in ciascuno degli organi periferici o centrali del nostro Ateneo? Beh, allora innanzitutto dicevamo ci sono studenti che siedono in organi che sono preposti proprio alle attività di progettazione, monitoraggio, valutazione dei corsi di studio e questi sono il gruppo di assicurazione della qualità del corso di studio, la commissione paritetica docenti-studenti e il nucleo di valutazione. Partiamo dal primo che ho nominato, il gruppo di assicurazione della qualità. Che cosa fa? È un gruppo costituito da alcuni docenti e solitamente da uno o due studenti che ha il compito di seguire in prima persona il ciclo di assicurazione della qualità del corso di studio. Quindi dalla progettazione alla azione alla valutazione fino alla proposta di azioni migliorative. Ok? E ha degli strumenti a disposizione che adesso vedremo con i quali tiene le fila di questo processo di gestione del corso di studio. Ovviamente i docenti porteranno ciò che riguarda il lato della docenza e gli studenti porteranno le istanze di chi quella docenza la utilizza per acquisire conoscenze e competenze. Una volta che il corso di studi funziona e ha il suo gruppo di assicurazione della qualità entra in gioco la commissione paritetica. La commissione paritetica, lo dice il nome stesso, è costituita da un numero paritario di studenti e di docenti. E qual è il loro compito? È quello di monitorare, fare un monitoraggio esterno di quello che avviene in ogni corso di studio a livello di dipartimento o di scuola. La commissione paritetica infatti non è una per ogni corso di studio come è il gruppo Q, ma è una per scuola, per quelle aree che hanno la scuola, o una per dipartimento per quelle aree che invece non hanno le scuole. Noi nel nostro Ateneo sappiamo che abbiamo tre scuole, quella di medicina, quella di economia e quella di scienza e ingegneria e quindi sostanzialmente chi sta seguendo corsi che non afferiscono a queste aree non avrà la scuola, ma avrà invece i dipartimenti, all'interno dei quali è stata nominata e insediata una commissione paritetica, che ha il compito, dicevamo, di riunirsi periodicamente, di andare a valutare quello che avviene nel corso di studio, di raccogliere istanze in particolare degli studenti e di portarle all'attenzione dei gruppi di assicurazione della qualità, per dire guarda che c'è questa criticità e di conseguenza i gruppi di assicurazione della qualità se ne prenderanno carico, cercheranno di capire quali sono le cause e di trovare delle soluzioni che saranno poi portate nel collegio didattico o nel consiglio di dipartimento o della scuola, discusse, approvate, in modo da implementare quel ciclo di cui parlavamo prima. Quindi è importante innanzitutto distinguere il ruolo del gruppo di assicurazione della qualità, che si fa promotore di azioni da far poi approvare nel collegio didattico, rispetto alla commissione paritetica, che è un organo di monitoraggio, controlla con l'obiettivo di identificare se ci sono problemi da segnalare al gruppo di assicurazione della qualità affinché quest'ultimo possa mettere in piedi azioni migliorative. Dall'altro lato, parte destra di questa slide, abbiamo gli organi centrali. Esistono rappresentanti degli studenti a livello di senato accademico, di consiglio di amministrazione, di nucleo di valutazione e ovviamente di consiglio degli studenti. Non esiste invece in questo momento un rappresentante degli studenti all'interno del presidio. Lo statuto non lo prevede, però ormai da un anno e mezzo circa un rappresentante di studenti partecipa regolarmente alle riunioni del presidio. E quindi anche adesso che è appena stato fatto il rinnovo delle rappresentanze studentesche, rientrodurremo un rappresentante degli studenti all'interno del presidio. Prima o poi, quando lo statuto verrà modificato, l'obiettivo è quello di fare in modo che sia ufficializzata questa presenza degli studenti nel presidio. Ma rispetto a questi organi centrali, quindi gli studenti che compito hanno? Beh, nel consiglio degli studenti ovviamente hanno la loro casa e l'organo di rappresentanza che esprime i propri pareri in materia di diritto allo studio, di contribuzione studentesca, sui piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla proposta di organizzazione delle attività didattiche e dei servizi degli studenti. Poi ciò che viene discusso all'interno del consiglio degli studenti ovviamente va portato e va discusso anche in Senato e in CDA. Il CDA è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione, di tutte le attività che vengono svolte nell'Ateneo, mentre il Senato è l'organo di rappresentanza che svolge funzioni di proposta e funzioni consultive in tema di didattica, ricerca, terza missione e servizi di studenti. Il presidio è invece l'organo preposto a gestire l'ambito dell'assicurazione della qualità e fare formazione in questo contesto a supportare i vari docenti, studenti e personale nel garantire una corretta applicazione di quello che è il modello di assicurazione della qualità definito dal nostro Ateneo, e il nucleo di valutazione invece è quell'organo che si preoccupa di fare la valutazione delle attività di ricerca, di didattica, di assistenza, di attività gestionali e tecnico-amministrative e si preoccupa anche degli interventi di sostegno addirittura lo studio che sono svolti dalle strutture dell'Ateneo. In particolare diventa quindi estremamente importante il ruolo degli studenti all'interno anche del nucleo di valutazione, perché anche lì è importante portare istanze, analizzare, monitorare, essere consapevoli del proprio ruolo, non solo per rivendicare posizioni a proprio vantaggio, ma per aiutare tutti gli altri a definire delle soluzioni quando si dovesse presentare qualche criticità. Ecco che quindi gli studenti partecipano alla progettazione di corsi di studio, raccolgono le opinioni dei propri compagni di corso, suggerimenti, criticità, monitorano la coerenza tra gli obiettivi formativi e la didattica erogata e monitorano l'efficacia dei servizi che vengono rivolti a loro stessi. Il tutto, ripeto, rappresentando. Quindi quando vi sedete in un organo all'interno del quale siete stati eletto, la vostra voce di studenti sarà tanto più forte quanto porterete istanze realmente sostenute da una base che vi ha dato il mandato di portare quelle istanze. Quando andate là e dite ho fatto una riunione in cui erano presenti 100 studenti, 500 studenti, tutti gli studenti di un corso di studi del primo anno, secondo anno, terzo anno. Ho raccolto informazioni tramite social, tramite riunioni virtuali o in presenza, eccetera, e portate queste documentazioni. La vostra voce diventerà molto più importante di quella che potrebbe essere se andate là e appena poi gli altri componenti dell'organo di cui fate parte vi chiedono ma da dove deriva questa tua osservazione? Voi rimanete lì e dite ma sì, mi sembra che... Ok, invece no, guarda qua. Ho un verbale di una riunione fatta in cui hanno partecipato tot studenti. Ecco qua quello che abbiamo raccolto. Ecco che questa mia osservazione non è più frutto di un piccolo gruppetto di amici o di conoscenti che ne hanno parlato davanti a una tazza di caffè, ma diventa la voce di un intero corso di studio, di un'intera area. Ok? Bene, a questo punto allora andiamo a vedere che cosa è chiamato a fare il rappresentante degli studenti all'interno di ciascuno di questi organi e in particolare a livello di corso di studio. Abbiamo parlato di gruppo di assicurazione della qualità e vi ho detto il gruppo di assicurazione della qualità ha alcuni strumenti che lo possono aiutare a definire la strategia di progettazione del corso di studio, di monitoraggio della qualità di quel corso di studio. E il documento principe è quella che si chiama scheda unica annuale del corso di studio, la sua CDS. È un documento che riporta cinque sezioni. Nella prima parte definisce delle informazioni generali sul corso di studio, è una laurea, è una laurea magistrale, viene erogata in didattica tradizionale, in didattica a distanza, la durata del corso di studi, quelli che sono i principali competenze e conoscenze che cerca di sviluppare, quelli che possono essere i possibili sbocchi occupazionali. Una sorta di vetrina con cui vedere le prime informazioni di base del corso di studio. Poi c'è una sezione invece che approfondisce gli obiettivi della formazione e quindi definisce in modo chiaro questo corso di studio forma un laureato che sarà in grado di, che conoscerà questo, che potrà occupare queste posizioni all'interno di queste tipologie di aziende, di enti, ok? E quindi descrive quello che è richiesto da quei famosi descrittori di Dublino, ok? Riportando le singole attività didattiche, le modalità con cui queste attività verranno erogate, le modalità con cui è possibile conseguire mettere il titolo, essere valutati gli esami, eccetera. Poi c'è una sezione dedicata all'esperienza dello studente. Cosa ci dice lo studente che ha frequentato, che frequenta, ok? E di conseguenza quali sono i servizi che questo studente, che questa studentessa ha potuto utilizzare durante il suo percorso di studio. Quindi servizi per studenti con disabilità, servizi per studenti con esigenze speciali, servizi di orientamento in ingresso, quindi al momento dell'iscrizione, in itinere, durante il percorso di studi, in uscita, nel momento in cui era necessario affacciarsi al mondo del lavoro e di conseguenza permette di costruire tutta quella informazione che garantisce allo studente la capacità di sapere quali sono i servizi a contorno che l'Ateneo offre, che quel corso di studio offre, per massimizzare i risultati della formazione. E poi c'è una sezione che analizza questi risultati, che riporta le opinioni degli studenti, le opinioni dei laureati, una serie di indicatori che dicono come sta andando, dal punto di vista di semplici numeri, l'esperienza di questi studenti. Infine c'è una parte che descrive come il corso di studi è organizzato proprio dal punto di vista della gestione della qualità. Quindi esiste un collegio didattico, esistono dei rappresentanti, esistono delle attività periodiche di monitoraggio, c'è l'interazione con la commissione paritetica e quindi si descrive esattamente qual è il ciclo di assicurazione della qualità che quello specifico corso di studio ha deciso di adottare, nell'ambito di quelle che sono le linee guida generali del nostro ateneo. Quindi questo è lo strumento principe, è un documento che viene poi pubblicato su Universitaly e che permette a una famiglia che si trova nella scelta di dover iscrivere proprio figlio o figlia all'università, può consultare per confrontare le varie offerte degli atenei italiani. Quindi è importante che gli studenti che appartengono al gruppo di assicurazione della qualità esprimano in particolare a livello della sezione esperienza dello studente quelle che sono le loro esigenze, le loro idee, le loro necessità per migliorare l'offerta del corso di studio. Un altro strumento importante è invece la scheda di monitoraggio annuale. Viene sempre preparata dal gruppo di assicurazione della qualità, così come vale per la sua CDS poi questa scheda viene portata in approvazione nel collegio didattico. Questa scheda si redige solitamente verso la fine di un anno solare, quindi novembre-dicembre, per andare ad analizzare quelli che sono alcuni indicatori che sono forniti da ANVUR a livello nazionale, regionale, locale. Questi indicatori sono numeri che ci dicono informazioni rispetto all'attrattività del corso di studi, quanti studenti si sono iscritti, da quali regioni provenivano, sono locali, sono a livello nazionale e via di seguito. Qual è il percorso di studio? Quindi quali sono i CFU che vengono acquisiti dagli studenti nel primo anno, se la maggior parte degli studenti supera il primo anno con più di 40 CFU, con meno di 40 CFU e via di seguito. Se si laurea nei tempi, se si laurea in modo regolare oppure no. Riporta dati sui risultati di apprendimento, quindi quelle che sono le informazioni su gli obiettivi che il corso di studio è stato in grado di portare a raggiungimento e ha anche una sezione dedicata agli esiti occupazionali, quindi legati a che cosa fanno successivamente alla laurea i nostri studenti. Che cosa devo fare il gruppo di ACU con l'ASMA? Deve sostanzialmente andare a analizzare questi numeri identificando se ci sono dei macroscopici valori negativi rispetto a una media nazionale, una media geografica e una media locale di Ateneo. Vengono riportati in particolare i dati degli ultimi tre anni accademici e sulla base di questi si può osservare un trend magari in crescita, quindi molto bene, o un trend in calo rispetto a un indicatore, o una stagnazione, o magari una possibile crescita, ma non tanto quanto sta avvenendo in altri Atenei. E quindi diventa lo spunto per andarsi interrogare su eventuali aree migliorabili. L'ASMA è il punto di partenza poi per pensare se non ci sia qualcosa da cambiare all'interno del corso di studio. E se c'è qualcosa da cambiare questo cambiamento ovviamente deve poi essere approvato negli opportuni organi e ridescritto nella sua CDS di cui abbiamo parlato prima. E questo avviene a fronte di un'analisi allora molto più approfondita che viene fatta con il rapporto dell'esame ciclico. Se l'ASMA dà un'indicazione che c'è qualcosa che va cambiato in termini sostanziali dentro al corso di studio, diventa opportuno fare un'analisi più approfondita tramite uno strumento che è proposto proprio a ciò, il rapporto dell'esame ciclico. È un documento, ancora una volta redato dal gruppo di assicurazione della qualità, ancora una volta con il coinvolgimento degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che sarà poi approvato dal collegio didattico. A cinque sezioni, nella prima si va a definire e analizzare il profilo culturale e professionale che il corso di studio intende formare. Nella seconda si dà conto delle evidenze relative e le esperienze dello studente. Nella terza si analizzano le risorse che il corso di studio ha a disposizione per arrivare a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Nella quarta si descrive come è stato strutturato il meccanismo di monitoraggio e di revisione del corso di studio. E nella quinta c'è proprio la sezione dei commenti agli indicatori dell'ASMA di cui parlavamo prima. Ognuna di queste sezioni è costituita da tre sottosezioni. La prima è quella che mi chiede di dire cosa è stato fatto dall'ultimo rapporto dell'esame ciclico che eventualmente è stato redatto qualche anno prima. Quindi cosa è successo nel frattempo in pratica. La seconda mi dice di fare una radiografia di quello che è lo stato attuale. Rispetto all'esperienza dello studente siamo in questa situazione. Gli studenti si laureano con tre anni di ritardo, la media del voto di laurea è 80, caspita c'è un bel campanello d'allarme. Oppure gli studenti sono molto soddisfatti, trovano lavoro subito, si laureano con voti alti, escono veramente in fretta dall'università e siamo sicuri che non è perché i docenti sono di manica l'arca. Allora molto bene. Quindi si analizza la radiografia dello stato presente. E poi terza sezione si va a vedere sulla base di quelle criticità eventualmente identificate nella sezione 2, la seconda sottosezione, quali azioni migliorative possono essere messe in atto, da chi, entro quali tempi. Di modo che ci sia una roadmap per arrivare da lì a qualche tempo a risolvere criticità e a tornare ad avere un miglioramento nel nostro corso di studio. Questo rapporto di esame ciclico viene redatto periodicamente o perché il corso di studio stesso ne rileva la necessità, a fronte magari dell'analisi della SMA, o perché viene richiesto esplicitamente dal nucleo di valutazione che accorgendosi di qualche criticità impone al corso di studio di fare un esame ciclico, o perché si sta avvicinando una visita di accreditamento da parte di Andrew e quindi è necessario presentarsi ovviamente col vestito pulito e fare il punto della situazione, oppure perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che non si è fatto. E allora si va a rifare per riportare l'attenzione su quello che è l'idea del corso di studio. Se invece sedete in una commissione paritetica, che cosa vi viene chiesto di fare? Il nostro Teneo chiede che le CPDS sostanzialmente abbiano funzioni di vigilanza e monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, vigilanza e monitoraggio delle attività di servizio agli studenti, definizione di criteri per la valutazione dei risultati delle precedenti attività e formulazione di pareri sulla attivazione e soppressione dei corsi di studio. Questo a grandi linee. Nel concreto ciò significa che la commissione paritetica durante l'intero anno accademico deve interagire con il corso di studio. I docenti devono interagire tra docenti, gli studenti devono interagire tra studenti per portare nelle varie sedute della commissione paritetica quelle segnalazioni di criticità che vanno colte immediatamente per fornire poi al gruppo di assicurazione della qualità spunto su come proseguire per togliere quelle criticità. Una commissione paritetica che si riunisce una volta all'anno, semplicemente per scrivere la sua relazione, di cui parleremo nella prossima slide, è una commissione paritetica che sta fallendo la sua missione. La commissione paritetica deve riunirsi più volte nell'arco dell'anno, una volta al mese, più volte al mese se necessario. Deve avere il coraggio di discutere apertamente di quelle che sono le criticità del corso di studio. E una volta che le ha identificate, l'obiettivo non è andare a mettere alla gogna quel particolare collega o quella particolare collega che nell'erogazione della didattica magari non ha soddisfatto le aspettative degli studenti, ma è andare a informare il presidente del collegio didattico, il gruppo di assicurazione della qualità, che c'è una criticità e che va risolta. Sarà poi il presidente del collegio didattico, il referente del corso di studio, che è il coordinatore del gruppo di assicurazione della qualità, del gruppo ACU, che parleranno con quel collega o con quella collega, che diranno guarda che forse il tuo corso si sovrappone troppo con qualcosa che gli studenti hanno già visto, quindi risulta poco efficace. Oppure è stata notata una discordanza tra quelle che sono le nozioni che vengono impartite e quello che poi è la modalità con cui si va a valutare se abbiamo raggiunto gli apprendimenti o altre situazioni che possono nascere. Un dialogo di questo tipo non irrigirà quel collega o quella collega, ma sarà un percorso congiunto di risoluzione dei problemi che possono nascere. Così come potrebbe essere che in commissione paritetica si riscontra la necessità di migliorare determinati servizi o strutture. In aula non si sente, non si vede bene il proiettore rotto, quindi cose anche molto spicciole, che è bene discutere, tracciare, affinché poi ci sia un percorso di miglioramento con la giusta allocazione delle varie attività a chi ha in capo la risoluzione di quel problema. Inoltre commissione paritetica per legge deve esprimere un parere sulla coerenza fra crediti formativi e attività formative del corso di studio. Quindi vuol dire che voi dovreste leggere effettivamente il contenuto della sua cds se siedete in una cpds, anche se non siete stati voi a scriverla quella sua, ma dovete leggerla. Perché se ci fosse scritto che un obiettivo del corso di studio è insegnarvi a, non lo so, programmare un calcolatore, ma poi vedete che i cfu assegnati a un corso di, a un insegnamento di programmazione sono due nell'arco di un intero corso di studi. Come fate a ottenere quelle competenze e quelle conoscenze legate a magari un sillabo molto lungo che descrive in un dettaglio molto molto importante tutte quelle tecniche e quelle metodologie che dovreste imparare. È ovvio che c'è una discordanza. Quindi un occhio su coerenza tra quanti crediti formativi sono stati assegnati a determinate attività e quelli che sono gli obiettivi attesi va dato sia come studenti che come docenti all'interno delle commissioni paritetiche. Ecco che poi alla fine il vostro operato diventa l'input per scrivere la relazione annuale. Le commissioni paritetiche entro solitamente la fine di ogni anno, 31 dicembre, devono redigere questa relazione. È il punto finale in cui il lavoro ce l'avete già fatto se precedentemente tutte queste azioni sono state portate avanti periodicamente. Se invece non vi siete mai visti, nessuno di voi ha mai saputo che cosa bisognava fare con la commissione paritetica. A un certo punto arriva il presidio e vi dice signori, signore, entro il 31 dicembre bisogna consegnare la relazione. Allora cade tutto. Allora si scrivono delle relazioni bene o male poco significative e si è persa un'occasione. La relazione diventa il punto in cui si va a scrivere tutto l'operato che è stato svolto durante l'anno. È il assunto è articolata per corso di studio, quindi non può essere fatto di tutta l'erba un fascio. È un documento che deve entrare nel merito di ogni corso di studio che afferisce a quella scuola, a quel dipartimento. Individua, riporta gli eventuali problemi, anche quelli risolti, perché ovviamente se avete agito periodicamente, appena un problema si presenta lo portate subito l'attenzione di chi ha la competenza e la responsabilità di risolverlo e si risolve. Se aspettiamo la fine dell'anno il ritardo diventa abissale. Analizza per fare questa relazione dei dati, che sono quelli raccolti da voi stessi, forniti magari dal presidio. Analizza certamente l'opinione degli studenti derivata dai questionari, non tanto in modo puntuale, cosa che invece è in capo al gruppo di assicurazione della qualità, ma in questo contesto relativo all'opinione degli studenti va a vedere se i gruppi di assicurazione della qualità stanno tenendo conto delle opinioni degli studenti nel modo giusto. Se le analizzano, se gli danno adito, se c'è un feedback poi di quello che i docenti mettono in piedi per andare incontro a queste esigenze, risposte positive e negative che siano, non è detto che se gli studenti hanno segnalato qualcosa nei loro questionari il docente deve per forza dire sì, sì, sì. Può anche dire no. L'importante è che spieghi perché e che lo renda pubblico. I vostri docenti devono all'inizio dell'anno accademico entrare in aula e dire, cari studenti, l'anno scorso i vostri colleghi mi hanno detto questo. Tra l'analisi dei questionari è emerso che? Ecco le mie risposte. Io ho deciso di implementare questo, di lasciare inalterato questo e vi spiego il perché. Questa è una cosa che ho colto importante, andava fatta effettivamente, ho quindi modificato il mio corso di studio per aderire a questo vostro suggerimento. Questa cosa no, perché quello che mi state chiedendo ritengo sia sbagliato, non vada a portare frutto rispetto agli obiettivi formativi che questo insegnamento si propone. Poi nella vostra relazione annuale potete includere analisi di ulteriori dati e informazioni raccolte da voi stessi come componenti della commissione paritetica. Ricordo l'importanza dell'evidenza, non andate, cari studenti, in commissione paritetica a recriminare sulle vostre cose private o dei vostri pochi amici, ma prima di sedere in commissione paritetica parlate con il vostro corso di studio. Ognuno di voi vada in aula, si presenti, gli studenti hanno bisogno di sapere che esiste una commissione paritetica e chi più di voi non gli deve raccontare che esiste? Hanno bisogno di sapere chi sono i componenti di quella commissione paritetica, lato studenti e quindi periodicamente un toc toc alla porta del corso di studio l'anno primo, l'anno secondo, l'anno terzo e così via. Deve essere fatto. Non basta sedersi nell'ufficio dei rappresentanti degli studenti e dire qualcuno busserà. No, siete voi i primi attori che dovete andare là e stimolare il dibattito, la discussione dei vostri colleghi. Ok? Questa relazione poi va nelle mani del nucleo di valutazione, del consiglio di dipartimento o del consiglio della scuola, del referente del corso di studio, quindi del gruppo di assicurazione della qualità, che si attiveranno ciascuno per le proprie responsabilità in modo da elaborare proposte di miglioramento. Proposte che magari sono già state portate avanti in itinere grazie al fatto che voi non avete lavorato solo ed esclusivamente al fine di questa relazione, ma avete già nell'arco dell'anno portato avanti le iniziative, parlato con nucleo, consiglio, dipartimento, scuola, referenti dei corsi di studio, per segnalare problematiche appena ne avete avuto l'evidenza. Concludo questa presentazione ricordandovi che abbiamo realizzato un video che descrive l'importanza del questionario di valutazione della didattica, il questionario che raccoglie le opinioni degli studenti. Si è detto di tutto e di più rispetto al questionario negli anni, che il questionario non è sicuro perché il docente è in grado poi di capire chi è lo studente che ha scritto quelle cose, che tanto il questionario non serve a niente e che mi fa perdere solo del tempo perché poi i docenti non ne tengono conto, che è una palla al piede perché io voglio registrarmi all'esame e quando mi registro la notte prima dell'esame devo anche compilare quelle domande. Beh, siamo liberi di pensare anche questo, ma non è questo il punto. Innanzitutto il questionario non permette al docente di sapere chi ha dato le risposte, questo ve lo posso garantire da informatico. In secondo luogo può essere vero che alcuni docenti, colleghi, non ne tengono conto. Chiedete all'inizio dell'anno accademico, all'inizio dell'insegnamento, chiedete al docente quali sono stati gli esiti del questionario della volta scorsa, dell'anno scorso? Che cosa è stato colto e non colto? Se non è il docente che si propone, siate voi. Come rappresentanti ovviamente vi fate carico di portare questa istanza al docente. Oppure non volete chiedere direttamente al docente, c'è un referente del corso di studio, il coordinatore del gruppo AQ, o c'è un presidente del collegio didattico a cui rivolgersi e dire guarda che noi vorremmo che ci fosse presentato da parte di ogni docente l'analisi dei questionari per capire. Perché se questo avviene, se questo feedback vi viene dato, allora per voi diventa più facile capire che effettivamente ha un valore scrivere la propria opinione risalativa alla didattica. Ok? Dall'anno scorso tra l'altro il questionario è stato reso facoltativo. Perché? Perché ci siamo accorti che purtroppo alcuni di voi lo compilavano in fretta e furia cliccando sulla prima voce disponibile senza porre l'attenzione dovuta, semplicemente per bypassare quell'ostacolo che era precedente alla possibilità di iscriversi all'esame. Bene, abbiamo tolto la compilazione obbligatoria. Quando adesso vi state per iscrivere all'esame, se non l'avete fatto prima, vi apparirà la richiesta di compilare il questionario e voi potete rispondere no. Non lo compilo e a quel punto vi andate direttamente a registrare. Se invece rispondete sì, allora avrete la possibilità di dare la vostra opinione. In ora i dati dell'anno accademico che si è concluso l'anno scorso dicono che nonostante averlo reso facoltativo, gli studenti lo compilano in grande maggioranza. Più dell'85% degli studenti ha comunque continuato a compilarlo. Questo ci dà soddisfazione e siamo contenti. Sfruttiamolo al meglio. Scrivete anche nei campi aperti, indicate le vostre opinioni e chiedete che poi i docenti vi diano conto all'inizio di ogni anno, all'inizio di ogni corso. Vi lascio quindi con la visione di questo video dove sentirete che il questionario è obbligatorio, ma in realtà, come vi ho detto, è stato da un anno ormai reso facoltativo. Grazie per l'attenzione e nell'ultima pagina, finita la presentazione del questionario, avrete la possibilità di vedere invece i riferimenti ad alcuni link su cui andare a raccogliere ulteriori informazioni. Ciao a tutti! Sai che esiste un modo per far sentire la tua voce? È il questionario sulla didattica dell'Università di Verona. Un'opportunità preziosa per esprimere la tua opinione su ogni insegnamento del tuo corso di studi. Compilalo e potrai dire la tua su tanti aspetti legati al corso, sul tuo interesse generale, sull'organizzazione e anche sul docente. Al momento dell'iscrizione al primo appello degli esami ti verrà richiesto di partecipare all'indagine. Se la consentirai potrai dare il tuo parere rispondendo a tutte le domande o solo ad alcune. Completare il questionario è semplice e veloce. Dovrai rispondere ad alcune domande indicando il tuo punteggio di valutazione, ma troverai anche un campo aperto in cui potrai scrivere eventuali note e segnalazioni. Già trascorsi i due terzi delle lezioni, potrai compilare il questionario semplicemente accedendo alla tua carriera online. Scegli se collegarti dal PC, dal tablet o dal tuo smartphone tramite l'app Univr. Potrai farlo a casa, ma anche a lezione. Sono stati infatti previsti speciali momenti dedicati alla compilazione del questionario all'interno delle lezioni. E non ti preoccupare, le tue risposte saranno assolutamente anonime. I docenti potranno vedere, una volta terminata la sessione di esame, solamente risultati complessivi, cioè la somma di tutte le risposte fornite da tutti gli studenti. I dati verranno poi analizzati dai gruppi di assicurazione della qualità del corso di studio e dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti e scuole, composti da docenti e studenti, per sottolineare e risolvere eventuali criticità individuate. Se hai necessità, puoi comunque comunicare le tue opinioni in qualunque momento del corso, rivolgendoti alla commissione paritetica del dipartimento. Sulla pagina web del dipartimento troverai i nomi di chi ne fa parte. Ricorda di valutare l'efficacia del corso e non la simpatia del professore. Solo con la tua collaborazione possiamo far crescere e potenziare la qualità della didattica della nostra università.